A quel giorno l'inattesa quanto benefica eccitazione dei cani scaturita dall'incontro con vestigia sparse ed eloquenti mi avvampò il viso dando inizio a quella benefica aspersione di adrenalina nel corpo che voi ben conoscete. Per chi non l'avesse mai visto all'opera devo precisare che Bullo, il setter ora inguidata, è da 8 anni il mio cane guida per sordo. Non riuscendo io a localizzare la posizione dei beeper che suonano a fermo, delego sempre Bullo a guidarmi verso i suoi colleghi in ferma dentro gli sporchi e le macchie. In questo preciso momento Bullo mi sta portando sul presidio di Orange in ferma già da qualche minuto nel siapone dell'argine che è sotto di noi. Quattro 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 L'ho vista all'ultimo momento, non l'ho mica vista prima. Quattro 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 Quattro